Ci sarà anche la giovane schermidrice Vittoria Becchina tesserata per il discobolo sciacca in gara nell'ambito della nona edizione del trofeo CONI che si terrà in Sicilia, a Catania e a Palermo tra pochi giorni, ossia dal 3 al 6 ottobre. La manifestazione nazionale, organizzata in collaborazione con gli organismi sportivi del CONI, punta a promuovere l'attività sportiva e i valori del sano agonismo, che include tanto la vittoria quanto la sconfitta, come momenti di crescita personale e sportiva. Alla cerimonia di apertura dell'evento parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento dunque di grande prestigio, previsto l'arrivo di oltre 5.000 Under-14 provenienti da tutta Italia. La cerimonia d'apertura e le gare sono previste a Catania e la scherma avrà un ruolo primario con la presenza di tutti i più forti atleti Under-14 d'Italia. La saccenza Vittoria Becchina, campionessa regionale in carica, rappresenterà la Sicilia nella specialità della sciabola. Un evento importante, commenta il tecnico federale Pippo Simone Vullo, che proietta il discobolo sciacca ancora una volta ai vertici nazionali. Vittoria Becchina è oggi un'eccellenza dello sport siciliano e cercherà di onorare il titolo regionale puntando al podio.